... Dopo la sostituzione del Sal, Kia Astro e Gleris, tutto pronto per la partenza della quinta corsa. Premio Scanzano, al primo nastro Alfa WSS, a Leuron, Aquilei, RL, Astro e Gleris. Al secondo, Ariel, Alessia, Art Mail e Amore Stecca. Subito ho convalidato il primo segnale con Astro e Gleris che va a condurre nei confronti di Alfa WSS a Leuron. Dal secondo nastro la più veloce è Ariel, mentre hanno sbagliato Art Mail e Aquilei, RL. Comanda Astro e Gleris nei confronti di Alfa WSS a Leuron. E poi ancora Ariel che lascia in quinta posizione Amore Stecca. A precedere Alessia e in coda Art Mail che insegue lunga fila indiana e 600 iniziali in 46 secco per Astro e Gleris e Francesco Tofano. Nei confronti di Alfa WSS, a Leuron all'esterno la risalita decisa ora del penalizzato Amore Stecca che va al salchi del leader costringendola ad allungare. Poi c'è sempre Alessia davanti a Art Mail, a Leuron che ha sbagliato. Chilometro di Astro e Gleris in 1.16.2 con 32 per l'ultimo quarto per reagire ad Amore Stecca che ora retrocede leggermente al salchi di Alfa WSS. Questi 200 metri ancora in meno di 15 per Astro e Gleris nei confronti di Amore Stecca Alfa WSS all'interno. che ora ferma per spostare a largo dopo aver fatto accodare Amore Stecca Alfa WSS che così può andare all'attacco di Astro e Gleris. Poi Ariel e ancora Alessia. Siamo ormai all'imbocco della curva finale con Astro e Gleris attaccato da Alfa WSS, poi Amore Stecca Ariel e Alessia in terza ruota. Astro e Gleris che reagisce agli attacchi di Alfa WSS affronta in vantaggio la retta d'arrivo 250 metri al traguardo. Astro e Gleris sotto la minaccia di Alfa WSS che si ripropone e passa di slancio. E' in difficoltà ora Astro e Gleris rimontato anche da Amore Stecca, poi Ariel e Alessia. E' facile in vantaggio Alfa WSS con Roberto Vecchione davanti ad Amore Stecca, poi Ariel che attacca Astro e Gleris. Vince Alfa WSS davanti ad Amore Stecca e Ariel al terzo posto. 1-8-5 l'arrivo ufficioso della quinta di Capannelle, meno di 2-31 per lo start sul mio cronometro e quindi dovrebbe essere media intorno all'1-15-4 per Alfa WSS, il doppio di Eric Bondo in veste di allenatore. La prima vittoria del pomeriggio invece per Roberto Vecchione con Alfa WSS che precede Amore Stecca e Ariel che sul palo ha ragione di Astro e Gleris per il terzo posto. 1-8-5 l'arrivo ufficioso, linea allo studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.